C'è da risolvere la questione che riguarda l'operatore San Marco che ha visto la sua casetta di legno andare a fuoco la settimana scorsa. Come si risolve quella questione? Perché lui sta operando adesso al centro della piazza in modo temporaneo, possiamo dire così? Allora, questo è chiaramente un argomento molto delicato, tant'è che comunque c'è un'indagine della Procura, tant'è che ci sono tutta una serie di situazioni che dovranno essere chiarite nei prossimi giorni. La questione San Marco è una questione che dispiace molto, l'amministrazione comunale è disposta a trovare ogni tipo di soluzione, chiaramente nel rispetto delle norme. Qualcuno va in giro a dire che Vitali non vuole firmare la cosa, l'assessore al commercio non è che ha potere di firma e decide di mettere o non mettere una casetta, quelli sono gli uffici, sono i dirigenti preposti a fare quello che ritengono più giusto fare. Difficile come soluzione però. Diciamo, quello che posso dire è che poi le norme urbanistiche sono una sorta di stella polare rispetto a tutta una serie di questioni che si debbono fare. Ripeto, poi i dirigenti conosceranno sicuramente le norme, le disposizioni e troveranno una soluzione. Ma non è chiaramente, non sta a me, chiaramente dire l'uno piuttosto che l'altro. Io posso semplicemente, se mi chiedete che cos'è la piazza del 24 maggio, dico che è una piazza che diede alla stampa proprio a voi, a TRC, tanto tempo fa, il certificato di destinazione urbanistica che lì prevede una piazza. Poi dopo di che, se qualcuno ritiene che possa essere messa una nuova casetta oppure possa essere autorizzato un nuovo stallo vicino a quella parte là, questi sono discorsi che si devono assumere le responsabilità ai dirigenti che non spettano chiaramente alla politica, tanto meno né all'assessore. C'è la possibilità per San Marco di tornare a piazza Regina Margherita, dove peraltro ha il suo stallo? Beh, questo non solo per San Marco, ma per tutti gli operatori di piazza 24 maggio. Gli stalli a loro disposizione, che sono loro assegnati, stanno là. Tra l'altro non sono neanche stati inseriti nel bando di cara che verrà per dei famosi 43 stalli, perché logicamente noi non possiamo mettere a bando uno stallo che è assegnato a un'altra persona, quindi quelli stanno lì per San Marco come per chiunque altro possono da domattina andare a lavorare da quella parte, questo è fuori discussione.